Il 10 giugno 1940 l'Italia entrò in guerra contro Francia e Gran Bretagna. Pochi giorni dopo, il 22 giugno, la Francia firmò l'armistizio con le forze dell'asse, lasciando la sola Gran Bretagna a sostenere la guerra contro Italia e Germania. Se da un lato le risorse britanniche erano concentrate ad evitare lo sbarco tedesco sull'isola, dall'altro la flotta britannica doveva mantenere il controllo delle vie di comunicazione tra la madrepatria e l'Egitto. In questo contesto la Royal Navy si trovava a dover fronteggiare la regia marina nel Mediterraneo, regia marina che costituiva un avversario non trascurabile che minacciava la sicurezza delle rotte tra Gibilterra ed Alessandria. Il 3 luglio, con lo scopo di prevenire la caduta nelle mani dell'asse della potente flotta francese nel Mediterraneo, la Royal Navy affondò la flotta francese distanza in Algeria. In quell'estate avvennero i primi scontri tra regia marina e Royal Navy, battaglie in cui i britannici uscirono vincenti, seppur causando danni leggeri alla marina italiana. In particolare, per aumentare la pressione sulle rotte britanniche, la regia marina aveva spostato la sua flotta a Taranto, un porto ben protetto e considerato sicuro per le navi italiane. Fu a questo punto che gli inglesi considerarono la possibilità di colpire le navi italiane all'ancora, sfruttando la capacità operativa offerta dalle loro porta aerei nel Mediterraneo. Il porto di Taranto consisteva in un porto grande, chiamato Mare Grande, ed uno più piccolo interno, il Mar Piccolo, collegato al Mare Grande da un piccolo canale. Il principale attracco delle navi era ad est del Mare Grande, sul molo chiamato Diga di Tarantola. Ad est dell'attracco erano disposti pure i magazzini di carburante. Una seconda diga, la diga di San Vito, proteggeva il Mar Grande dal mare aperto, mentre una linea di frangiflutti collegava le isole di San Paolo e San Pietro alla terraferma. Su entrambe le isole erano disposte artiglierie, per prevenire attacchi dal mare. La difesa aerea del porto era assegnata a pattuglia aerei, che nel caso avessero rilevato la presenza di bombardieri nemici, avrebbero dato l'allarme. In più sulla terraferma erano disposti 13 rilevatori di suono, che rilevavano la presenza di aerei fino a 25 milia nautica. Le difese aeree del porto erano completate da 21 batterie da 10,2 cm, che avevano funzione antiaerea ed antinevale. Queste artiglierie erano però risalenti alla prima guerra mondiale e mancavano della frequenza di fuoco necessaria a rendere il loro utilizzo antiaereo efficace. In caso di attacco, per localizzare eventuali aerei nemici, il porto di Taranto disponeva di 22 localizzatori luminosi. Le difese navali disponevano di reti antisiluro, ma queste erano complete solo per un terzo. Una parte significativa di queste non era stata disposta volutamente, poiché avrebbe tardato il rapido dispiegamento della flotta in caso di necessità. Infine, come schermo aereo nel porto erano disposti i palloni agganciati a zattere, attraverso cavi metallici. Questi cavi avrebbero costituito un ostacolo per gli aerei, che avessero attaccato a basso quota il porto. Purtroppo, a causa di una burrasca, circa 60 palloni erano stati danneggiati nei giorni precedenti e per mancanza di idrogeno ne erano operativi solo 27. Va qui sottolineato come un attacco aereo ad un porto militare ben difeso era stata una operazione fino ad allora mai provata e gli inglesi stessi erano molto dubbiosi sulla riuscita di un eventuale attacco. Il 28 ottobre l'Italia decise di invadere la Grecia. Gli inglesi supportarono la causa ellenica e per alleggerire la pressione italiana in questo teatro l'ammiragliato inglese dette il via libera all'operazione MB-8, ovvero l'attacco aereo silurante su Taranto. Come già detto, la mossa era temeraria poiché un attacco aereo ad una flotta militare all'ancora in un porto militarmente difeso non era mai stato tentato prima. Tanto più che gli aereo siluranti a disposizione della Royal Navy erano gli obsoleti bimotore Swordfish. L'operazione MB-8 prevedeva vari movimenti della flotta britannica volti a depistare gli italiani circa le vere intenzioni dell'ammiragliato britannico. Il 6 novembre l'ammiraglio Cunningham salpò d'Alessandra sulla corazzata Worspit accompagnata dalle corazzate Malaya Valiant Ramilles, la porta aereo Illustrius e gli incrociatori York e Glucester, oltre che 12 cacciatropediniere. Per depistare gli italiani, il 9 novembre una forza proveniente da Gibraltar attaccò la base aerea di Cagliari danneggiando i ricognitori della base mentre il giorno seguente, dalla forza proveniente da Alessandra si distaccò il gruppo che doveva attaccare Taranto l'11 novembre nell'operazione chiamata Judgment. La flotta italiana ormengiata a Taranto comprendeva 6 corazzate, 9 incrociatori e 8 cacciatropediniere. Alle ore 20 dell'11 novembre la porta aerea Illustrius raggiunse il punto d'attacco prestabilito e tra le 20 e le 20.45 la prima ondata di 12 aerosiluranti decollò seguita alle 21.20 dalla seconda ondata. La prima ondata fu in vista di Taranto alle 22.50 e dalle 23.12 iniziò l'attacco che durò circa 20 minuti. I primi swordfish della prima ondata sganciarono i razzi luminosi a destra di Capo San Vito illuminando gli obiettivi militari. Questi furono seguiti da altri due swordfish che attaccarono la Conte di Cavour che fu colpita da uno dei due siluri. Altre tre swordfish attaccarono successivamente l'Allittorio che fu colpita a babordo e tribordo da due siluri. Della prima ondata rimanevano solo gli swordfish armati con bombe che presero di mira un gruppo di navi minore attaccate nel Mar Piccolo e i depositi di carburante causando danni minori prima di tornare alla porta aerei. Era giunto il momento della seconda ondata che arrivò alle 00.10 del 12 novembre. Anche in questo caso l'attacco fu anticipato da due swordfish armati con razzi illuminanti che rischiararono l'attacco ad est del Mar Grande. L'attacco fu seguito da altri due swordfish che attaccarono l'Allittorio fallendo però l'obiettivo. Nell'attacco uno dei due velivoli inglesi finì abbattuto. Successivamente due swordfish andarono a segno colpendo l'Accaio Duilio e l'Allittorio. A questo punto i primi due swordfish che avevano lanciato i razzi illuminanti sganciarono i propri carichi di bombe sui depositi di carburante mentre negli ultimi due aereossiluranti uno mancava la vittoria veneto e l'altro colpiva l'incrociatore pesante Trento senza però che la carica esplosiva del Siluro esplodesse. Alle 7 del mattino con la perdita di soli due swordfish la Illustrius si ricongiunse con la Mediterranean Fleet. Le riparazioni dell'Allittorio durarono circa 4 mesi dell'Aduilio 7 mesi mentre la Conte di Cavour richiese ingenti lavori di recupero e le sue riparazioni furono incomplete quando l'Italia si è rese nel 1943. La Notte di Taranto come venne definita spostò ancora prima che la guerra nel Mediterraneo cominciasse l'equilibrio di forze a favore dei britannici che avevano in un colpo solo dimezzato la capacità offensiva italiana affondando 3 delle 6 corazzate della regia marina. La Royal Navy ora godeva di più libertà operativa poiché per affrontare la flotta italiana non era più necessario che operasse come un'unica unità ma ora poteva dividersi in due gruppi ciascuna avente una porta aerei e due corazzate. Questa battaglia segnò anche la fine della superiorità delle corazzate rispetto alle porte aerei ed era studiata attentamente dalla Marina Imperiale Giapponese per organizzare l'attacco alla base statunitense di Pell Harbour. Grazie a tutti.